Anch'io volevo ringraziare per essere stata invitata in un parterre così importante ed è un argomento che mi è molto vicino perché è vero che ora sono consigliere di Stato ma per 40 anni sono stata nell'amministrazione dell'interno con varie esperienze e quindi credo di poter dare un contributo alla discussione di oggi. Quando si parla dell'amministrazione pubblica che è in crisi, quello effettivamente è un dato di fatto che ritengo però, e questo devo dirlo, non dipende solo dall'amministrazione perché sicuramente condivido quello che diceva il professor Cassese, un'esondazione legislativa che ha ridotto lo spazio di discrezionalità dell'amministrazione evidentemente anche perché non c'è una fiducia ogni volta che cambia il governo nell'amministrazione che si ritrova e quindi si cerca di penetrare ancora più in maniera incisiva nella formulazione delle leggi, addirittura si va proprio nel dettaglio e questo lo condivido pienamente. Però c'è anche da dire che negli anni, e questo mi pare che l'hanno detto anche gli altri relatori negli anni l'amministrazione pubblica è stata deoparata di personale perché noi abbiamo avuto una riduzione di organico che non è stato possibile sostituire il personale che andava via e adesso secondo i dati che ha dato Roberto Garofoli e sicuramente sarà così con la quota 100 avremo un'amministrazione pubblica che avrà grandi difficoltà ad affrontare la propria attività istituzionale perché i concorsi anche se si faranno, me lo auguro, ma ovviamente hanno dei tempi che non consentiranno un'immediata sostituzione. Poi devo anche dire che laddove si fanno concorsi così grandi con tanti candidati perché ovviamente questo dipende anche dal fatto che non sono stati fatti concorsi per anni che cosa comporterà? Comporterà i quiz. I quiz è un'attività mnemonica, non sono conoscenze concrete io sfido chiunque di noi a leggere quando i nostri figli fanno i quiz per entrare da qualche concorso a quiz io sfido chiunque di noi a completarli correttamente tutti quanti. Quindi effettivamente poi soltanto chi impara un esercizio mnemonico e anche su questo probabilmente bisogna ragionare perché noi abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia un'amministrazione forte. Mi fa piacere che nella rivista vengano citate le due amministrazioni, oltre ovviamente l'economia, la ragioneria, il ruolo che hanno avuto nel salvataggio delle banche, ci si dilunga tanto su questo e quindi l'abbiamo letto con grande piacere. Però devo dire che si dice anche di due amministrazioni che sono state sottratte alla contrattualizzazione del pubblico impiego. E quali sono? L'interno e gli esteri. Allora quando il professor Cassese dice probabilmente dobbiamo ripensare anche tutto il sistema che abbiamo portato avanti dagli anni 90 in poi, cioè della contrattualizzazione, io proprio provenendo da un'amministrazione come l'interno, dove abbiamo le due categorie. Abbiamo la categoria dei non contrattualizzati, che è la categoria della carriera prefettizia, e la categoria dei contrattualizzati. Quindi so bene quali sono le difficoltà anche per quanto riguarda dare un incarico ex articolo 19 per la dirigenza, cioè la difficoltà che si trova nel lavorare insieme. Allora quando dico che si fanno i concorsi unici, anche su questo io non condivido, perché ci sono amministrazioni specifiche, Roberto Garofali parlava dell'economia, ma io a questo punto devo parlare anche dell'interno, come degli esteri, con quelle amministrazioni che hanno delle specificità che non possono essere, non dico confuse, ma insomma sicuramente c'è bisogno di personale che abbia una qualificazione diversa rispetto a quello che può andare in altre amministrazioni. Ne parlavo prima con Bernardo Mattarella, il discorso della formazione. Io ritengo che sia molto importante, proprio perché noi vogliamo personale qualificato, sicuramente la formazione è un punto focale di tutta l'organizzazione, anche dell'amministrazione pubblica. La formazione però, noi avevamo una scuola dell'interno che era davvero una scuola che ha fatto corsi formativi, non soltanto per i funzionari della carriera prefettizia, ma anche per il personale contrattualizzato, quello che non sono i dirigenti contrattualizzati, ma anche il personale collocato nei livelli. Oggi per esempio, è vero che si è dovuto operare nell'ottica della spending review, di riunificare cinque scuole e farne un'unica cosa, però quello che manca oggi per esempio è anche la formazione. Non dico della carriera prefettizia che bene o male riesce a fare il suo percorso formativo, ma il personale che lavora insieme ai dirigenti non fa più corsi da quando c'è stato il passaggio. Questo secondo me non è un effetto positivo di questa riforma, e quindi evidentemente se si potesse rimettere mano a questo, pur nella unicità delle strutture della scuola, visto che è tutto nella scuola nazionale, ma che ci sia un'attenzione anche riservata al personale, diciamo, chiamiamole impiegatizio, che non è soltanto quello dirigente, perché a livello di funzionario collaborano con i dirigenti, e quindi è giusto che facciano anche loro un percorso formativo. Ma questo è importante anche per un altro motivo. Il motivo che io vedo è che bisogna sensibilizzare il personale delle pubbliche amministrazioni. Devono rendersi conto della missione che ognuno di loro ha, ognuno nel proprio ambito, creare una sorta di motivazione, ma capendo che il loro lavoro a vari livelli, a vari gradini, può incidere su quella che è in generale l'attività della pubblica amministrazione, perché se le istituzioni funzionano, funziona anche lo Stato. E che cosa deve funzionare? Innanzitutto ci sono dei principi basilari. Io parlo della mia esperienza, per 40 anni sono stata nell'amministrazione dell'interno, con vari incarichi, tra l'altro anche come capo dipartimento delle politiche del personale, quindi ben sapendo i vari aspetti e le varie difficoltà che si trovano nel governare strutture così ampie. Però sicuramente bisogna avere uno spirito di appartenenza, uno spirito di appartenenza che si deve alimentare proprio con tutta la formazione possibile, lavorando insieme, perché oltre che la professionalità, occorre la disponibilità, occorre la sensibilità. Bisogna lavorare con il cuore, bisogna lavorare con la massima professionalità, perché quello che è lo specchio dell'amministrazione pubblica siamo noi, e se un'amministrazione funziona è perché la facciamo funzionare noi. Oggi che cosa ne abbiamo parlato poco anzi con gli altri relatori, si parlava della trasparenza, dei principi di trasparenza, dei principi che oggi sono fondamentali, visto che oggi proprio c'è stata tutta questa polemica di corruzione in vari punti d'Italia, in Lombardia, in Calabria. Ecco, allora la corruzione secondo me è un punto importante su cui dobbiamo discutere e che deve essere un elemento perché va a incidere anche sull'economia, perché sulla competitività dell'Italia, cioè ha degli aspetti di rilievo che vanno a incidere non soltanto sull'amministrazione, sull'istituzione e quindi nei confronti delle altre amministrazioni, ma vanno a incidere su quello che è un concetto dell'Italia, il futuro dell'Italia, perché se non c'è questo principio di competitività, perché ritengono, si ritiene che l'Italia sia corrotta, questa è una cosa sbagliata. Di passi avanti ne sono stati fatti tanti. L'altro giorno proprio parlavo con il presidente dell'anticorruzione e diceva lui che in effetti, soprattutto in materia di trasparenza, abbiamo acquisito dieci punti in più rispetto all'anno scorso. E quindi è importante questo, però devo dire che anche tutte queste regole hanno comportato un freno all'attività delle amministrazioni, perché le amministrazioni oggi, se devono firmare un provvedimento, ci pensano i controlli della Corte dei Conti, laddove ci sono ovviamente la Corte dei Conti che c'è il rischio poi di andare a processo in seguito, fa sì che un freno rappresenti un freno. E la stessa cosa diceva ovviamente il presidente dell'anticorruzione, che sono subissati di richieste, di pareri dalle amministrazioni che non vogliono più assumersi la responsabilità nell'adottare provvedimenti. Questo secondo me è un elemento che ci deve far pensare, perché se la Procura Generale della Corte dei Conti ti mette sotto processo, se tu funzionario pubblico temi di assumerti una responsabilità perché pensi che è meglio non fare che fare, oppure se lo devi fare devi avere a supporto pareri da parte della Corte dei Conti, dell'ANAC e quant'altro, questo vuol dire che noi abdichiamo al nostro ruolo, il ruolo di dirigente. Su questo punto io quello che dico sempre, che è un elemento importante, è la responsabilità. Che cos'è il concetto di responsabilità? Vuol dire la possibilità di fare delle scelte sapendo che le tue scelte vanno a ricadere su altre. E quindi la possibilità di farlo, ma farlo senza costrizioni, in piena autonomia, mai farsi tirare la giacchetta. Il rischio è quello delle interferenze che ci sono a vario titolo e un funzionario pubblico, ecco, deve essere in grado di, proprio perché rappresenta l'istituzione, deve creare la fiducia nelle istituzioni, non soltanto crearla, ma mantenerla questa figura. È un senso di responsabilità. E secondo me, io quando, l'ho detto, lo dicevo, anche ai funzionari del Ministero dell'Interno, dicevo, secondo me voi dovete sempre operare secondo delle vostre regole, che sono le regole di legalità, le regole che devono essere in linea con quelle che sono le normative. Non c'è altro, certo, ci può essere l'interpretazione, più o meno positiva, però occorre operare secondo una direttrice unica, senza farsi tirare la giacchetta da nessuno. Purtroppo questo capita. E allora, l'importante, secondo me, ecco, con questo chiudo, no, volevo dire anche un'altra cosa, a proposito della contrattualizzazione che c'è stata, e del ruolo poi che hanno avuto i sindacati nella vita delle amministrazioni pubbliche. Io l'ho vissuto proprio da capo di dipartimento, c'è stato un eccesso di presenza dei sindacati, di cogestione con le amministrazioni pubbliche, che adesso, diciamo, è stato messo un po' un freno, ma quando si facevano le contrattazioni integrative che davano risorse, venivano date tante volte a pioggia. E questo era un po' una regola generale, quindi non lo dico per il Ministero dell'Interno, ma era una regola generale, perché c'era questa attività quasi di cogestione con l'amministrazione pubblica, e secondo me questo, ecco, vuol dire deresponsabilizzare i funzionari che devono sapere fin dove bisogna, si può arrivare, e quindi è un concetto sempre lì, ritorniamo sempre sul concetto della responsabilità. Il Ministero dell'Interno, certo, io come Roberto parlava del Ministero dell'Economia, io ovviamente parlo della mia amministrazione che ha dei compiti rilevantissimi, un prefetto svolge in maniera silente, ma in un'attività che viene riconosciuta, perché? Perché ha quei principi cardine che dovrebbero essere, diciamo, viste un po' nell'amministrazione pubblica in generale, la terza età, la capacità di ascolto, la capacità di operare per il riconoscimento e l'affermazione dei diritti, i diritti di libertà. Secondo me questo è un elemento importantissimo, cioè riuscire a coniugare quella che è i diritti di libertà con le esigenze dei cittadini. Nel momento in cui riconoscono che c'è effettivamente un'autorità che rappresenta lo Stato, perché se lo Stato esiste e se le pubbliche amministrazioni esistono, vuol dire che sono due essenze che devono lavorare insieme, perché è uno Stato che funziona e quando le amministrazioni pubbliche, le istituzioni funzionano, ma funzionano nella legalità e riescono a dare fiducia ai cittadini, perché diciamo la verità, tutte le istituzioni pubbliche, tutti, non solo l'interno, ma tutte le istituzioni, lavorano soltanto per un principio che è nobile, quello di dare aiuto al cittadino e di andare incontro. Ognuno lo fa nell'ambito proprio. Noi lo facciamo nell'ambito della sicurezza, l'economia lo fa, la ragioneria per quanto riguarda i conti pubblici. Perché l'Italia funzioni? Occorre che ognuno faccia la sua parte. E allora, secondo me, ognuno di noi lo deve fare con professionalità, secondo la propria specificità, ma anche avendo il senso dello Stato, il senso del dovere. Questo, secondo me, da qua bisogna partire. Grazie.